Si approfondiamo ad aprire una nuova area che non era stata nominata fino ad oggi ed è quella che va dal cimitero di Rosciano fino al Corba. Sono 20 punti luce, saranno costituiti da lampade led, avremo un risparmio del 30% sul consumo e dal punto di vista estetico creeranno una situazione sicuramente piacevole ed è una risposta importante anche per la sicurezza perché non dobbiamo dimenticarci che c'è una viabilità che aumenta sempre di più perché quella è una zona estremamente importante e in più per tutti coloro che o in bicicletta o perché si fanno la passeggiatina o la corsetta usufruiscono di quel terreno e di quelle strade. Questo intervento è già iniziato e insieme ad un altro pacco di interventi che riguardano il posizionamento di nuove fonti di illuminazione nella zona di Ponte Alto a Metauriglia, poi ci sono tre attraversamenti pedonari, uno di fronte alla farmacia Pierini, un altro in Viale Primo Maggio di fronte alla sede della BCC e uno davanti al campo sportivo di Sant'Orso. Sono tre zone secondo noi molto importanti, puntiamo molto sulla messa in sicurezza degli incroci, li abbiamo già fatti fino a qualche giorno fa e continuiamo in questa veste e quindi l'insieme di questi interventi ammontano circa 50.000 euro, sono già iniziati, contiamo se non ci sono sorprese di nessun genere per interruzione di lavori o quant'altro di finire tutto entro un mese, 40 giorni, quindi questo è quello che ci apprestiamo a fare.